Ciao a tutti, oggi un video sui miei prodotti top per la sopravvivenza in estate ho messo principalmente le categorie che mi stanno più a cuore ovviamente ce ne sono altri, tipo i prodotti sotto la doccia, bla 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 però diciamo che questi sono proprio i fondamentali con cui mi sto trovando benissimo o che non devono mai mancare perché ritornano ogni estate da che cosa cominciamo? Cominciamo dai prodotti per il viso i due prodotti che sto già usando in realtà da qualche mese e che mi avevano già convinto in periodo primaverile ma si stanno confermando come ottimi prodotti per il periodo estivo sono due prodotti per la detersione e l'idratazione della Double B Taylor Beauty di questi due prodotti vi ho già parlato circa un mesetto fa perché saranno due mesi abbondanti ormai che li sto utilizzando e devo dire che sono perfetti anche per l'estate non avevo dubbi sul detergente perché è un detergente non so se riesco a farvi vedere ecco vedete è una consistenza semi-gellosa è molto delicato lava molto bene il viso ma assolutamente rimane delicatissimo sulla pelle quindi la sgrassa il giusto, la pulisce il giusto ma non vi va a seccare in alcun modo l'epidermide e io ho un tipo di pelle misto nel senso che ho delle zone secche che con alcuni detergenti di questa tipologia mi diventano quasi screpolate sempre questa zona, ve lo dico sempre ma questo non lo fa assolutamente e inoltre in questo periodo dove ho bisogno di qualcosa di un pochino più consistente meno cremoso come utilizzo invece durante il resto dell'anno questo si sta veramente rivelando un ottimo prodotto i prodotti della Double B Taylor Beauty sono prodotti 100% vegan hanno degli ottimi ingredienti e la differenza io la sto notando ormai da mesi stessa cosa dicasi per la crema che è una crema giorno ha una consistenza questi sono 60 ml di prodotto quindi è un bel barattolone ne ho consumato veramente tanto perché era pieno fino all'orlo quindi vedete quanto ne manca non vi nego che la sto usando anche per la notte in questo periodo che sta facendo particolarmente caldo anche di sera perché la crema notte è un pochino che sto usando un pochino più consistente e non sempre riesco ad utilizzarla sto provando anche altri prodotti ho provato a prendere altre cose ma non mi stanno particolarmente convincendo per cui sto usando lei anche di notte spesso e volentieri e quello che mi piace di questa crema è che nonostante abbia all'interno tante componenti buone, idratanti tanti olietti tante cose che fanno bene la pelle è di rapidissimo assorbimento rimane molto leggera velutata sul viso e anche questa mi dà la giusta idratazione nelle zone che mi si seccano particolarmente e mi dà anche la giusta idratazione dove ho la pelle un po' più mista soprattutto in questo periodo dell'anno dove ovviamente si suda più facilmente quindi mi stanno convincendo tantissimo in questo periodo e sono due salvavita al momento poi sempre per rimanere sulla questione viso uso sempre come sapete un tonico in questo caso un idrolato quello ai fiori d'arancio della saponaria che io travaso all'interno di queste confezioni con lo spruzzino perché sempre come sapete io il tonico lo vaporizzo sul viso e mi sta piacendo molto anche questo innanzitutto il tonico all'idrolato e ai fiori d'arancio ha un profumo buono a differenza di quello che ho usato tempo fa che come vi ricorderete era una roba improbabole questo qua invece è molto gradevole il profumo e in più va a fare comunque quello che a me serve cioè a parte rinfrescare il viso dargli quel qualcosa in più anche a livello di idratazione, di distensione e come sempre mi va anche a lenire i rossori come mi succede con il tonico alla rosa mi sta piacendo mi sta decisamente piacendo e sono già a metà confezione perché questo qui era pieno quindi sono quasi a metà per quanto riguarda il viso penso che abbiamo finito un prodotto fondamentale tutto l'anno ma in estate ancora di più consigliamo un buon diodorante a tutti perché qualcuno come dire ma lasciamo stare sicuramente una conferma è lui lo sapete lo uso da un anno e mezzo ormai da tantissimo questo è il mio preferito so che sono uscite delle profumazioni nuove ma io ancora non le ho trovate quindi per il momento continuo a comprare lui cioè quello al talco anche se la profumazione poi alla fine svanisce nell'arco di qualche secondo però insomma lì per lì anche nel momento in cui si spruzza fa piacere sentire qualcosa che ci piace olfattivamente parlando è un ottimo prodotto questo su di me funziona benissimo è a base di allume di rocca senza alcol, alluminio e parabeni e a me dura tutto il giorno l'ho già testato l'estate scorsa ci ho fatto tutta l'estate con questi deodoranti e continuerò anche questa ho introdotto però in questo momento lui ho finito una confezione questa qui ancora non l'ho ricominciata ma ho cominciato questo della Bema che questo è stato preso al Tigotà quindi con questa confezione l'ho tenuta per farvela vedere e questa è la linea uomo mi sembra di sì perché sì uomo papo perché la profumazione donna era alla rosa e siccome io con la rosa ho qualche problema onde evitare perché non conosco la profumazione allora ho chiesto il favore a Serena perché io Tigotà non ce l'ho vicino Serena è Sirio Makeup e Serena mi ha preso quello uomo conoscendomi molto bene la profumazione è buonissima sì maschile ma alla fine è abbastanza unisex è molto fresca a me piace tantissimo questo dura leggermente di più la profumazione rispetto a questo qui della Natura Amica lo sto usando adesso da qualche settimana e c'è questo caldo troce già da qualche settimana mi dura tutto il giorno anche lui non mi dà assolutamente problemi è un buon prodotto io della Bema ho già usato un'altra linea che era la linea Giovani se vi ricordate Young o qualche cosa che era praticamente priva di profumazione però e mi ero già trovata bene con questo qui continuo a trovarmi bene l'unica cosa che ricordo sempre questi prodotti prima di vaporizzarli vanno shakerati poi per quanto riguarda ancora la profumazione io in estate uso principalmente acque profumate e le due che sto usando di più sicuramente la gardenia bianca della Mono Team lo sapete già e l'altra è l'acqua di violetta questa qui perché questa dura anche un pochettino di più devo dire rispetto a questa però sono comunque molto gradevoli e magari nel corso della giornata le rimetto senza problemi sono fresche sono particolarmente alcoliche quindi non mi danno fastidio sul corpo perché alcuni profumi troppo alcolici con il caldo con il sudore danno fastidio invece queste qui sono molto piacevoli e costano molto poco le ho prese tutte e due d'acqua e sapone questa addirittura era in promozione ma stanno intorno ai 5 euro tutte e due più o meno qualcosa di meno qualcosa di più siamo là insomma intorno ai 5 euro poi per rimanere ancora per la questione viso è fondamentale per me tutto l'anno ma lo è stato fondamentalissimo in questo periodo perché tra acciacchi vari le labbra sono le prime tra bronchite terpes eccetera eccetera che ci rimettono e devo dire che questo prodotto è stato provvidenziale questo è il dolci labbra chemilla al lime e l'ho praticamente finito ne è rimasto un mozzicone e allora è un buon prodotto io mi sono trovata molto bene e l'ho veramente messa a dura prova perché ripeto l'ho utilizzato oltretutto in un periodo in cui le mie labbra erano particolarmente messe alla prova e non si sono devastate quindi non ho avuto grossi problemi di screpolature eccetera eccetera nonostante tosse, raffreddore varie ed eventuali già mi aveva convinto prima perché l'ho cominciata ad usare prima di tutti gli acciacchi e devo dire che messa ancora di più alla prova ho confermato l'idea che avevo idrata molto bene è un burro non troppo consistente e non troppo morbido con il caldo perché ho cominciato ad utilizzarlo che ancora non era caldissimo ed era un po' più consistente un po' più ceroso che lo preferivo col caldo ovviamente si è andato leggermente ad ammorbidire ma resta cioè quando lo metto la sera io la mattina mi alzo che sembra che ho appena messo il burro cacao le labbra sono morbide idratantissime davvero un buon prodotto la profumazione al lime non a caso perché questa me l'ha regalata il mio amico Pierre che sa che adoro le profumazioni al lime per quanto riguarda il burro cacao ma purtroppo svanisce nell'arco di un attimo cioè il profumo si sente ed è anche buono come l'ha andata a mettere sentite un po' questa profumazione dopodiché si sente solo il burro cacao non si avverte più nulla quindi se fosse leggermente più consistente sarebbe perfetto per me non più consistente più duraturo la profumazione però ce lo facciamo star bene così perché devo dire che è veramente stato un salvavita per quanto riguarda le mani io in estate ho ancora più accentuato il problema della secchezza sul palmo per cui ho bisogno di creme che mi vadano a lenire questo fastidio ma che non siano troppo unte perché comunque io le devo usare principalmente sul palmo e finisco come vi ho detto già in un altro video per fare poi la sacra sindone quando vado poi a toccare la roba perché mi rimane la mano sempre umidiccia che è una cosa orrenda questa crema è fantastica questa è quella della Nashi Argan e mi ci sto trovando davvero davvero bene perché è molto morbida infatti all'inizio temevo un po' quando ho cominciato ad utilizzarla che fosse troppo ricca appunto in olio d'argan eccetera eccetera invece sì è consistente perché rispetto ad altre che ho utilizzato è meno momentaneo il fastidio cioè nel senso che alcune mi andavano bene perché effettivamente si asciugavano in fretta però poi dopo poco tipo un'oretta mi ritornava il fastidio della secchezza sul palmo con questa no io la metto una volta e sto a posto poi non so perché mi accentua particolarmente la sera probabilmente dovuto anche al lavaggio dei piatti cucina cose varie ed eventuali le mani vanno un po' ad accentuare il fastidio della secchezza credo per cui devo dire che è un salvavita perché io la metto e sono a posto si asciuga molto facilmente a me non dà fastidio l'odore anche se ha un odore un po' pungente forse per qualcuno questa crema potrebbe essere ma a me non dà assolutamente fastidio e soprattutto mi dura per diverse ore quindi la devo mettere una volta e sono a posto poi un bene primario per me ma io penso che lo sappiate tutti è l'acqua termale questa è la Evian che uso ormai da parecchio tempo da un paio d'anni non me lo ricordo io sono passata allora ne ho usate diverse che mi hanno convinto sì e no poi ho preso un paio di anni fa o tre anni fa forse tre anni fa e questa sono un paio d'anni l'acqua di Repole che mi è piaciuta tantissimo e credo che ora si trovi anche nei Tigo Tai io lo trovo solo in un'ereboristeria qui da me che la vendeva a dei prezzi esorbitanti per cui non l'ho più ricomprata per il prezzo e poi ho cominciato a trovare questa da acqua e sapone ogni volta che la mettono in promozione io mi acchiappo un paio di bocce infatti ce ne ho già altre due pronte all'uso perché questa qua è finita mi ci trovo benissimo mi ci trovo come l'acqua di Repole a che cosa serve a me io soffro di pelle molto secca il fastidio della pelle secca in estate si acutizza per cui che succede quando faccio la doccia post doccia mi verrebbe da scorticarmi le gambe nonostante siano molto idratate nonostante usi anche degli olietti post doccia eccetera eccetera si acutizza proprio il fastidio in fase di asciugatura post doccia asciugatura ma spesso mi succede quando è molto molto umido e io abito in una zona molto molto umida purtroppo che avverto pizzicore alle gambe io ho la pelle secca soprattutto sulle gambe comincio ad avvertire un pizzicore anche durante la notte anche mi sveglio durante la notte perché sento questo fastidio questa mi lenisce subito mi lenisce la pelle come poche altre cose io abbia usato per questo mio specifico problema poi la uso per rinfrescarmi eccetera eccetera insomma la spruzzo in estate in quantità industriali ma per il mio fastidio specifico è una mano santa e non potrei farne a meno finisco con due prodotti sempre corpo perché come dicevo io ho la pelle molto secca ma in estate mettere cose troppo consistenti è una gran rottura di scatole e poi magari appunto la sera è molto umido quindi post doccia si fa fatica a far assorbire una crema proprio perché con l'umidità tendi a trasudare qualunque cosa mi piace usare il latte corpo spesso e volentieri il latte corpo per me è qualcosa di totalmente inutile ma ne ho trovati due che mi stanno veramente convincendo uno è il bio sublime che avete visto di recente in un video da all regali eccetera eccetera che sto usando ormai da qualche giorno insieme al suo compagno di viaggio cioè nel bagno doccia e non mi aspettavo che fosse così morbido così rapido assorbimento ma non troppo nel senso che la crema comunque un minimo va massaggiata se no veramente non serve a niente ma mi lascia la pelle morbidissima lascia una pelle di seta e a distanza delle 24 ore io ho ancora una pelle di seta vi assicuro che per me non è così automatico e scontato quindi ecco non me lo aspettavo oltretutto ha una profumazione pazzesca perché è la profumazione che mi piace tanto della Bem cioè quella della Biosublime di cui sapete che ho anche il profumo e che non ho preso ma anche quella è una profumazione la uso tutto l'anno quella lì non la uso specificamente in estate quindi anche per questa ragione non l'ho inserita però adesso la sto comunque utilizzando e fa un ottimo lavoro fa veramente un ottimo lavoro quindi una body lotion che dice la sua e stessa cosa dica sì per questo della Elan che tra l'altro questa è bio ovviamente questa qui ha anche un buon inci questo ha sostanze freggiate cioè olio di argan e jojoba per il 4,5% del prodotto ed è di origine naturale al 96% leggo qui perché all'interno della confezione della Elan ma già ve l'avevo fatto vedere tempo fa questa cosa ci sono le caratteristiche principali del prodotto questa è la linea è una ninfea che pure è una profumazione buonissima questa la sto usando da più tempo di questa qui ma la sto intervallando perché l'ho cominciata a provare ma avevo altri prodotti da finire per cui l'ho dovuta un pochino intervallare e adesso diciamo sto usando loro due è buonissima anche questa mi lascia una pelle velutata è molto morbido è proprio un latte oggettivamente ma non insulso quindi va bene anche se avete una pelle secca come la mia questi sono i miei prodotti salvestate diciamo principali quelli insomma che sono fondamentali per me fatemi sapere voi se usate qualcosa o che altro usate se vi fa piacere e come sempre ci vediamo alla prossima ciao